So che i bimbi? Sì. Cosa farete in questa giornata? Siamo un po' in giro a passeggiare, oggi pomeriggio sono a testa. Sempre qui ad Avellino, andrete a vedere i fanevani in giro per dei figna? No, no, restiamo ad Avellino. La classica lasagna ci sarà? Sicuramente. Fucinata non da me ma dalla nonna ovviamente. I bimbi da cosa sono mascherati? Dei mostriciattoli, questi personaggi dei cartoni, sono degli alieni. Io lo volevo vestire da pirata ma non c'è stato verso. Ormai i cartoni dominano. Ok, sì sì, grazie.